Vabbè, ovvietà sociali, proprio... Come commenti? Quest'ultima dichiarazione per esempio è molto forte. Ma guarda, in realtà sta giocando sull'ovvietà, perché in realtà questa persona non può dire nulla di me, perché io non sono mai stata fedifraga, non l'ho mai... l'ho sempre sostenuto, l'ho aiutato, io ero la sua amante, sposa, personal trainer, coach, personal shopper, gli facevo i look sul letto, come diceva mia nonna con mio nonno, lo portavo ad allenarsi, facevo di tutto per lui, quindi ero veramente una gescia inizialmente. Hai usato vostra figlia sui social per farti pubblicità? In realtà Alfonso, inizialmente sono passati quattro anni, avevo fatto un blog per mamme che non esiste neanche più, quindi mia figlia sui social è sempre di profilo o di spalle, veramente ci saranno tre foto, quindi non la uso neanche per lavorare, io lavoravo in radio, facevo un programma di moda, non lavoro con mia figlia oggi e non lo faccio neanche. Senti Clizia, essere geisha di un uomo premia? Io ho fatto tutto col cuore, vengo da una famiglia matriarcale, vengo da una famiglia in cui la donna ha i pantaloni con grande dignità e ho seguito il mio sentire, non lo so, premia? Tu dici che mi ha premiato? Io dico che ho seguito quello che volevo, quello che pensavo e lo farei altre mille volte. Questo è un messaggio stupendo, grazie Clizia. Grazie. 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 Grazie.